Ciao cari amici, bentornati a Un Tè con Elena. Allora, prima di tutto mi scuso perché sono latitante da qualche giorno assenteista, non perché non abbia voglia di condividere con voi le mie letture e i miei film. In realtà è stata una settimana così convulsa, le occhiaie mi sono testimoni, che non ho trovato davvero 5 minuti per riuscire a postare un video. Ho comprato un po' di libri, quello sono riuscita, ho iniziato a leggere qualcuno, ma veramente avete presente quelle giornate in cui crollate, se va bene sul letto, altrimenti sul divano, praticamente svenite e fino al giorno dopo dove ripartite, tipo Orsetto Duracell, mi farò perdonare. Allora, sono riuscita però, e questo mi ha causato una notte insonne, perché sono andata al cinema ieri sera, film molto bello, molto lungo, per cui 9, 9 e 20 più o meno, comprese le pubblicità e i trailer, tra una storia e l'altra, la una di notte, il che mi ha causato poche ore di sonno. Però sono andata a vedere un film di cui si è molto sentito parlare, nel bene e nel male. Io l'ho adorato e credo che le tre ore di durata siano valse la pena di vedere un film veramente bello, e le tre ore sono volate via. Il film di cui vi sto parlando è Babylon, che è uscito sugli schermi in questi giorni in Italia. Il regista è Damien Chazelle, già premio Oscar per La La Land, film che io non ho molto apprezzato, devo dire. E tra l'altro con una colonna sonora, a mio parere, strepitosa, di quelle colonne sonore che vale la pena di ascoltare al cinema, con tutto il sistema, Dolby, Surround e quant'altro. Di Justin Arvitz, anche lui premio Oscar per la colonna sonora, con Damien Chazelle per La La Land. Tra l'altro erano compagni di college, quindi un lungo sodalizio professionale e una lunga amicizia. Benché Damien Chazelle, credo che sia stato il regista più giovane, a 36-37 anni, a vincere l'Oscar. Babylon. Allora, Babylon. Il nome prende spunto da un libro di cui vi avevo già parlato, Hollywood Babilonia, di Kenneth Anger, che racconta la storia del cinema hollywoodiano attraverso vizi, stravizi, scandali, omicidi, suicidi e quant'altro. Allora, questo film, un cast di estremo rilievo, io ho apprezzato molto, allora, Brad Pitt. Brad Pitt fa uno dei protagonisti, Jack Conrad. Poi abbiamo una strepitosa, bellissima, a mio parere bravissima, Margot Robbie, di cui avevo parlato recentemente per Amsterdam, che il cui personaggio si chiama Nelly, o Ellie, Nelly, l'eroe, e un bravo, bravissimo attore, Diego Calva, che interpreta Manuel Manny Torres, attore. Allora, che cosa racconta questa storia? Questa storia parte nel 25-26. Hollywood è all'inizio, siamo nel regno del cinema muto, in cui il cinema si sta inventando, ma è già un luogo, chiamiamolo così, ancora in costruzione, infatti si vede bene, ancora c'è tutto il deserto, no? intorno, ci sono queste megaville, ma è già un luogo dove il vizio, vizi e vizio, droga, sesso, orge, denaro, si sprecano. Infatti il film inizia praticamente quasi subito con questa mega festa hollywoodiana che praticamente è un'orgia collettiva, nani, ballerine, di tutto di più. C'è anche un richiamo alla storia hollywoodiana, appunto raccontata anche da Kenneth Anger, di Fetty Rosco, mi pare, Harbacol, che era un attore del muto comico Fetty perché era molto corpulento, che durante appunto una di queste feste, parti selvaggi, uccise involontariamente durante un atto sessuale una ragazzina, una giovane aspirante attricetta, credo adolescente, ed è uno scandalo che ha fatto storia. Che cosa racconta questo film? Le vicende di questi personaggi che a diverso titolo si incontrano, abbiamo Brad Pitt, bravo, bravissimo, secondo me, Jack Conrad, che è stata una star del cinema mutuo e già carriera avanzata negli anni in cui appunto ci sarà, viene ben raccontato nel film, il passaggio al cinema sonoro. Poi abbiamo appunto Margot Robbie, bellissima e bravissima, che vuole diventare una star e lo diventa, lo diventa un po' casualmente, purtroppo raccoglie in sé il grosso problema di essere dedita a tutti i vizi possibili immaginabili. E poi abbiamo questo personaggio che è un po' il cardine, secondo me, Manny Torres Manuel, che è un immigrato del Messico e che ha il sogno di entrare a lavorare nel cinema. E ci riesce molto bene. Ci sono tutta una serie di vicende per cui durante tutto il film poi si vengono raccontate le carriere, le evoluzioni e poi le cadute di questi tre protagonisti con le loro storie intrecciate. Il divo del muto che poi viene messo in panchina dal sonoro, questa attrice che purtroppo a causa dei suoi vizi personali poi si brucia e con tutta una serie anche di pasticci di guai in cui tira dentro Manny Torres che è da sempre innamorato di lei con un ritmo veramente frenetico. C'è tutta la scena iniziale abbastanza lunga di questa festa orgia che è stata molto criticata in alcune recensioni che in realtà dà uno spaccato, secondo me, di questa Hollywood in cui tutto era possibile e tutto era comunque legale, diciamo, comunque permesso. Ci sono tutta una serie di vicende e io non ve le sto a raccontare. Poi ci sono altri personaggi ovviamente rilevanti con un cast, per esempio, fa a un certo punto il capo del gruppo degli spacciatori che è Tobey Maguire che tra l'altro è, avete presente Spider-Man, ok, che è stato anche produttore del film e fa questa particina. Non mi ricordo il nome di questa giornalista cinematografica che crea e distrugge carriere e che comunque è la cartina di tornasolo di carriere in ascesa e carriere in declino. Allora, il film, secondo me, ti tira dentro. Ti tira dentro della magia di un cinema e credo... Magia, scusate, del cinema. È comunque un film molto vivace, alcuni tratti frenetico, convulso e le musiche lo sottolineano molto bene, c'è sempre quest'altro musicista a cui vengono fatti fare dei film adesso mi sfugge il nome, che suona la tromba, musicista di colore, tira dentro l'America di quegli anni lì, tira dentro il sogno che è il sogno hollywoodiano ma è il sogno di tutti noi. a un certo punto una delle mogli, perché Brad Pitt, attore con una serie di donne, sciuppa femmine, a un certo punto una delle sue mogli che è attrice teatrale a Brodway dice sì, però il cinema non è arte, arte è il teatro. E lui dice non è vero perché il cinema arriva a tutti, non ha poche, ha una ristretta elite. Il cinema è il sogno di tutti e arriva a tutti, quindi è un'arte. C'è, io non ve la racconto, però la scena finale in cui dopo molti anni, dopo che i personaggi hanno avuto le loro vicende, Manny Torres, che non è più nel mondo del cinema, torna a Hollywood e si infila in una sala cinematografica. C'è stato poi un salto temporale, siamo nel 1952 e assistendo a questo film, questa scena bellissima in cui poi lui piange e praticamente lui vede questo film ma in realtà il regista poi fa una cavalcata attraverso l'evoluzione del cinema e come diceva la giornalista la magia del cinema sopravvive, sopravvive agli spettatori, sopravvive agli attori, sopravvive ai registi, sopravvive ai film stessi e dice appunto fra tanti anni quando tutti noi saremo morti un ragazzino riderà guardando le comiche o piangerà per una scena d'amore e questa è la magia del cinema che tira dentro tutti noi, chi non si è lasciato incantare da una scena, ognuno ha le proprie scene dei film preferiti, le scene che ci hanno fatto piangere, le scene che hanno toccato le nostre corde più profonde o le scene che ci hanno fatto ridere, addirittura io ricordo da bambina si vedeva le comiche di Stanley Oglio e ancora le porto nel cuore e Stanley Oglio figuratevi bianco e nero quanti anni fa, però ce le portiamo dentro. Secondo me è un film andare a vedere, preparatevi perché è lungo, ma se vi fate tirare dentro le tre ore volano come per magia, come io vi dico sempre. e secondo me è stato anche bello vederlo dopo aver visto The Fabelman, quello di Spielberg, in cui lo raccontava la propria storia autobiografica e del come abbia deciso di diventare regista. Entrambi ci hanno raccontato da diversi punti di vista, anche attraverso la storia degli albori, i pionieri del cinema, che la magia del cinema è eterna e che veramente è un'arte che riesce a catturare tutti noi. Quindi andate a vederlo, Babylon, appena uscito in questi giorni, credo che abbia un bel po' di candidatura agli Oscar, a parte quella di Margot Robbie come attrice, protagonista, ma per me è stato un bel film. Alcune critiche l'hanno demolito, ma degustibus. Detto questo, cari amici, vi lascio. Se vi è piaciuto questo video mettete un like, perdonatemi se sono stata leggermente assenteista in questi giorni, ma vi ho spiegato perché tornerò più presente di prima. Se vi interessa quello che dico, iscrivetevi al mio canale YouTube Un Teconella. Ciao cari amici, a presto, buona serata. Grazie. Grazie a tutti.